Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi, finalmente lo possiamo fare, guardate quante figurine prima di tutto abbiamo fatto, come sapete incolleremo le figurine, però voglio dire, guardate quante abbiamo di figurine ripetute del 2000 e 2000 e? 2019 e 2020 mi pare, guardate quante abbiamo, saprebbero queste e queste, però oggi non dobbiamo incollare queste, dobbiamo incollare queste qui, queste sono tante e queste, quindi iniziamo da questa è qua ragazzi, e va bene, iniziamo da queste, l'album è qua, che bello ragazzi quest'anno, aspettate, ok, apriamo, tammy abram allora, andiamo 338 andiamo 138 no ragazzi ok, ok, qui è? abbiamo Fusato e Paul Lopez e Ibanez 138 qui, dammi a Abra Abra vedatelo questo è lui dai incollerlo comunque perdiamo tempo le figurine le figurine di quest'anno sono molto belle si ragazzi io vorrei provare, comunque su Roblox mi chiamo Giuseppe TV 108 108 guarda io registro qui e che sto provando da e Mario si chiama Giumati lo stadio olimpico di Roma ok Mario si chiama Mario Giumati V 108 108 allora lo devo vai, incolla ok ok il primo è registro a me adesso ora Mario deve incollare la sua Giovanni no Caprari che è capitato Caprari fammi vedere mettiamo qui non c'è proprio niente sembra la carta di identità poi a me capita Giovanni Simeone ragazzi guardate abbiamo trovato questo ci capita Giovanni Simeone abbiamo trovato questa che è una figata pazzesca e a me capita questo e a me capita questo Giovanni Simeone se mi prende al fuoco no e niente vai ok allora gioco così ci abbiamo provato un botto di volte a fare questo video Gianluca Caprari 186 Gianluca Caprari ok questo qui Gianluca Caprari allora vai no però si vede il dito vai eh bene vai ok dopo abbiamo Giovanni Simeone sempre del Verona vai 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 ok sempre del Verona quindi siamo fortunati che numero è 180 dove c'è 183 Giovanni Simeone sempre del Verona ragazzi il numero il numero il numero il numero 99 dai bomber del Verona quest'anno che ha fatto tanti gol ha fatto un tiro a giro contro la Juve insigne ora insigne che è la Fiorentina chiede proprio no che schifo che schifo madonna che schifo va Fiorentina ecco allora numero ah doppione è doppione ragazzi abbiamo due doppioni ve lo regaliamo grazie abbiamo due doppioni mi pare scusate se facciamo sto avanti e indietro con la telecamera vedete vi facciamo vedere che è uguale allora da qua non sembra lui allora lui questo da qua non sembra lui ne è poco termosifoni da ora in poi il nostro canale si chiama termosifoni qua scherzo mare giuseppe tv sempre dov'è questo qui sono andata a casa eh vai andiamo con le con le incolla dovremmo fare no dovremmo fare un'altra prospettiva andiamo crotone penso che ti è ripetuta penso che ti è ripetuta ragazzi 622 ha crotone troviamo crotone no indietro 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 ok no non era dopo aspettate ragazzi ragazzi abbiamo scoperto che abbiamo un altro doppione il secondo il secondo di fila vi facciamo vedere di nuovo che non sono che non sono uguali i doppioni frate e cugini gemelli ascoli ora andiamo all'ascoli che è sempre qui ascoli ascoli è il secondo eccolo ecco ascoli finalmente lo attacca attacchiamo una non è non so perchè i mister li hanno lasciati l'oro l'hanno messi l'oro comunque il 572 A ecco 572 A ok dai che ci vuole ecco zoom stop ragazzi stop no 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 aspetta ok subito inizia no ha toccato male raga attacco io no no dopo abbiamo bip 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 ci mancano due della serie A team e abbiamo finito siamo a 8 minuti questi qua io non so perchè li incollo male vedete vabbè non ho incontrato adesso questo qua io li incollo malissimo dopo abbiamo iaglialo iaglialo non lo possiamo sistemare perchè poi diventano tutto un casino abbiamo iaglialo qual'è l'altra? Udinese no ok raga ciao no ragazzi abbiamo avuto un problema tecnico tecnico eccolo bella la maglia dell'Udinese quest'anno dov'è? allora aspetta che prende aspetta che prende a 490 che prende a eccolo a fuoco dov'è? iaglialo 490 ok ho preso a fuoco comunque questo qui avevamo quest'anno hanno messo pure i nomi qua ragazzi si è molto bello aspetta ok vai benissimo andiamo con Agudelo oddio aspetta ecco termosifoni Agudelo 433 433 433 e abbiamo finito il video dopo questo si e poi facciamo un aiuto ah no questo è ripetuto o no si dopo vediamo dai incolla ah Agudelo 433 comunque ragazzi non abbiamo avuto una della Juve tieni non abbiamo avuto una della Juve andiamo all'ascoli vediamo se l'è ripetuta speriamo di no dove sto andando dove sta andando ascoli no non è ripetuta ok vai ancora 273 e l'ultimo qual'è e basta questa è l'ultima non si riesce oh ok 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 da tambiamo questo vallo a incominare ok mi fai questo ragazzi io questo e questo e il ramo e il ramo e il ramo vai ok l'ultimo come si chiama dove è il dopo per favore si chiama eh togliamolo ok fai subito ok abbiamo finito abbiamo finito le figurine 2021 2022 guarda che casino qui e da mario a giuseppe tv out ciao vorrei notare che casino qui dai iscrivetevi e da mario a giuseppe tv dobbiamo fare quello di questo si out mario giuseppe tv out ciao 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 ciao